Eccoli qua i ragazzi! L'abbiamo fatta! Sopramissuti! Siamo ufficialmente Sparcati! Allora, sull'isola d'Elba, per questo nuovo video. C'è in realtà più l'esperienza con il video è una conseguenza di ciò. Però speriamo di divertirci, dare del gas e lanciare i veicoli. Come sempre, ma tanto abbiamo il cordio con noi quindi non è un problema. Per esportare l'arte del lancio del veicolo anche in queste zone. Esatto! E' sabato mattina, siamo appena partiti, davanti c'è la guida. Siamo con i soliti ragazzi, Alessandro, Marco e di oggi c'è anche Taviano. Speriamo di divertirsi, fare dei bei passaggi, un po' di allenamento magari. E niente, buona visione! Niente, buona visione! Sì c'è del bello qua una piccola estremina c'è del bello qua il 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 bello qua 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 bello qua 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 quaovy qua acciaccati, altrimenti qualcuno l'ha lanciata. Ora è stato un tour molto bello, te cosa dici? Molto bello, due giorni intensi, il primo abbiamo fatto un anello di 108 km, il secondo mattina corto però intenso, abbiamo fatto la famosa tavola, un altro paio di passaggini ci sta, bel weekend. Tutto organizzato al meglio dai ragazzi di Enduro in Appennino, veramente l'organizzazione ineccepibile sia come location che come come anche scelte per andare a cena, a pranzo, tutto è stato organizzato veramente al meglio. Se sei arrivato fino qua iscriviti, che è importante e non costa niente.